Chi sei? E sa, uno sei più la stessa Tuoi che io rinocco nel tuo letto per cui sbattemi su e su Un rocker vero che contagia con la sua energia Enrico Ruggeri infiamma la piazza di Oratino Mack nella serata inaugurale con la sua carica di rompente Siamo qua per divertirci, sicuramente faremo un bel concerto C'è gente, c'è un sacco di gente arrivata da lontano Molti prendono le ferie e seguono le date del tour, c'erano anche ieri Ci divertiremo Sono tanti i successi da poter scegliere in 35 dischi una carriera ultra quarantennale Cominciata quando aveva appena 15 anni Sul palco, muri di amplificatori e nessun sequencer, nemmeno a cercarlo Concerti senza sequenze, senza basi pre-registrate Siamo rimasti in due o tre a farli E quindi anche il piacere di essere tra i pochissimi che fanno ancora musica L'apoteosi quando il giro di basso iniziale cita Eforest De Cure per svelare poi una versione originale di polvere Personaggio completo, Ruggeri ha scritto delle donne per le donne La sua interpretazione di quelle canzoni rimane sempre magia Fino a poche settimane fa era in onda in radio con un suo programma A breve sarà in tv su Rai 1 come conduttore Quest'anno sì, saltiamo un giro C'è questo impegno su Rai 1 È importante, è interessante, è una bella sfida La passione porta sempre lontano E di storie da scoprire e da raccontare Enrico Ruggeri ne avrà ancora tante Marco Rattino, ciao a tutti Marco Rattino, ciao a tutti